No, io ho accettato subito nonostante, sì, ci ho pensato al fatto della maschera, mi sono detta chissà, mi riconosceranno, pensieri così, però invece è stato molto liberatorio perché non mi sono mai guardato allo specchio, ho lasciato andare, non ero preoccupata né per le rughe né per niente, ho seguito il personaggio così, no, è stato molto divertente. Lei quindi come ha vissuto Isabella questa costruzione di questo personaggio completamente differente da lei? Si è trovata a interpretare una donna devastata dalla chirurgia estetica, lei appunto è sempre stata fiera del suo viso naturale, quindi come è stata la costruzione del personaggio? No, appunto, il fatto che avevo una maschera, quello che si è veramente mosso è stato, sono un po' le mie emozioni che potevano appoggiarsi molto facilmente sui versi di Sorrentino. Ho avuto un regalo da Paolo nell'avere delle frasi veramente molto, che mi hanno molto toccato, una su tutte, la maternità mi ha inseguito dappertutto, oppure alla bellezza non ci contare, dura dieci, ammaglia i primi dieci minuti e irrita per i successivi dieci anni. Sono delle battute stupende, quindi così ti traghetta poi da qualche parte, insomma.